Ciao a tutti da Valeria, pellicola hot per Cameron Diaz. Sarà vero? Mi sa di no. Vi dico tutto dopo il video. L'americano? Già. Dai, Charlie! L'Ele non ti ha insegnato niente sulle donne italiane. Lungo, lungo, corto. Tu sei il nuovo amico di mia figlia, eh? Io voglio la mia borsa adesso. Piano di me. Noi vogliamo quella borsa. Quello che dobbiamo fare stanotte è stare uniti e mettere in piedi un clostro. Facco riprendicarci con tutti gli ingredienti. Quanto è romantica. Custer! Ma che cazzo sta succedendo? Eh, 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 scommetto che stavate pensando alle solite prudezze sessuali messe in rete dalla star di turno. Invece no. Stiamo parlando di Sex Tape, nuova commedia diretta da Jake Kasdan che potrebbe vedere il protagonista Cameron Diaz al fianco di Jason Segel. Sex Tape è scritto da Kate Angelo e narra la storia di una coppia di periferia, Annie e Jay, che per dare un po' di pepe alla loro vita sessuale decidono di girare un video amatoriale. Purtroppo il video viene smarrito e i due faranno di tutto per recuperarlo. Originale, non trovate? E se la Diaz non accettasse, chi vedreste protagonista di questo nastro? Fatemelo sapere commentando qui sotto. Per oggi è tutto, ricordatevi di mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!